Tg. Live, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti, benvenuti in nuovo appuntamento dell'informazione di Tele Regione Live, qui al canale 88 del digitale terrestre. Il notiziario che si apre con la visita della Commissione bicamerale per le questioni regionali a Cagliari per una delle audizioni che si stanno svolgendo in tutta Italia. Il tema è quello dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili ma anche sociali. Allora vediamo com'è andata questa audizione nel servizio di Eleonora Bullegas. Oltre alla sanità, i livelli dei servizi sui trasporti, sulle infrastrutture e sulla scuola sono i fattori che mettono più in risalto le criticità e le differenze tra le regioni del nord con quelle del sud e le isole. E' questo ciò che è emerso oggi a Cagliari nella sede della prefettura dalla dodicesima tappa delle audizioni sull'indagine conoscitiva dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali che la Commissione bicamerale per le questioni regionali sta effettuando in tutta Italia. I livelli essenziali di prestazioni devono essere tutti allo stesso livello. Come dico sempre, da Canicattì a Bolzano devono avere tutti gli stessi diritti e le stesse prestazioni. Per fine novembre e inizio dicembre il Comitato dei CLEP dovrebbe finire il proprio lavoro sulla determinazione e la definizione totale dei LEP che poi subito dopo andremo nella Commissione bicamerale per divulgare il lavoro che loro hanno fatto. Sono del parere che può essere un'occasione. Uno dei nodi qui in Sardegna è quello legato proprio alle difficoltà sui trasporti. La regione ad agosto scorso ha impugnato la legge sull'autonomia differenziata davanti alla Corte Costituzionale, ma la governatrice sarda Alessandra Todd reputa comunque fondamentale confrontarsi sui livelli essenziali delle prestazioni. Discutere sui livelli è importante nella misura in cui bisogna capire anche come poi saranno finanziati. Al momento sicuramente non è chiaro. Quello che ha fatto la regione è che non si vuole sottrarre comunque al confronto impietoso con i dati che vengono dati in cui la nostra regione è tra le ultime di tale in quanto posizionamento. Abbiamo tra i peggiori indici di infrastrutturazione, abbiamo tra i peggiori indici di dispersione scolastica e potrei proseguire. Quindi il mio obiettivo oggi non è quello di fare la lunga lista o il cagliere di odoleanza che tutti noi conosciamo bene, ma cercare di capire anche da un punto di vista di percorso che questo percorso che si sta seguendo è sbagliato. Io in sostanza non sono assolutamente contrari a confrontarci sull'app. Mi interessa capire come saranno finanziati e che cosa arriverà alla Sardegna vista la sua conduzione. La cronaca ci porta nel Sassarese dove un'ambulanza dell'associazione Sassari Emergenza è stata incendiata nella notte avvenuto a Tissi. I gnoti hanno dato fuoco al mezzo intorno alle 3 utilizzando cubetti di diavolina posizionati sotto una ruota dell'ambulanza che era appoggiata davanti alla sede dell'associazione. Claudio Cabizzoso, responsabile dell'associazione, ha presentato questa mattina una dettagliata denuncia in cui indica ai carabinieri chi a suo avviso potrebbe essere l'autore oppure il mandante dell'attentato. Al via la Settimana Nazionale della Protezione Civile è stata inaugurata questo pomeriggio. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione dei rischi ambientali tramite numerose iniziative che coinvolgeranno giovani studenti e studentesse. Ce ne parla Daniele Chirico di UTG. Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione dei rischi ambientali è l'obiettivo della sesta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile iniziata da oggi 7 ottobre e in programma fino al 13 ottobre in corrispondenza con la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Con la diffusione della cultura di protezione civile ci sia maggiore consapevolezza da parte di tutti in particolare della cittadinanza in modo tale che conoscendo i rischi sappiano anche come comportarsi nel momento in cui si verificano anche la mita. Sono tante le iniziative in programma durante la Settimana Nazionale che coinvolgeranno i cittadini dai più piccoli fino agli adulti. Previsti sei open day con visita alla sala operativa per i bambini delle scuole elementari e per i ragazzi che hanno partecipato a uno dei campi scuola del progetto Anch'io sono la protezione civile. Stamattina abbiamo ospitato i primi bambini delle scuole elementari della zona di Cagliari e ci sono altre iniziative delle sale operative aperte che rivolte alle scuole ma anche i bambini dei campi scuola che ci sono stati quest'estate poi i volontari del servizio civile e poi apriremo per la prima volta anche alla cittadinanza quindi tutte le età saranno coinvolte nella visita delle nostre sedi. Poi avremo tante iniziative sul territorio proprio nelle scuole andremo noi a trovare le scuole e a parlare di protezione civile. Presente all'inaugurazione della settimana nazionale della protezione civile anche la presidente della regione Alessandra Todd che ha sottolineato l'importanza degli interventi da parte dei volontari per la tutela del territorio. Questo è un tema che mi interessa particolarmente il fatto che si possa lavorare sulla formazione che si possa ripartire con la scuola di formazione forestale ma anche con la scuola di protezione civile è importante far capire che c'è un percorso è importante allo stesso tempo parlare anche ai ragazzi e andare nelle scuole e fargli capire che loro stessi con un piccolo atto appunto di volontariato possono fare moltissimo per un territorio che sicuramente amano. E adesso vi portiamo a Nuoro dove si è svolto l'incontro tra il presidente della Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria Bernardino Puget, due le aziende sarde. L'obiettivo è quello di promuovere le collaborazioni tra le imprese del centro sardegna e quelle ungheresi. Daniela Stara Creare opportunità di sviluppo reciproco e rafforzare i legami economici tra le realtà imprenditoriali sarde e ungheresi è stato il focus dell'incontro che si è tenuto a Nuoro tra Bernardino Puget, presidente della Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria e le aziende del centro sardegna. L'appuntamento svoltosi nella sala consiglio della Camera di Commercio di Nuoro ha visto la partecipazione di tre sottosegretari di Stato del governo ungherese confermando l'importanza della missione. I settori che interessano l'Ungheria sono un pochettino tutti. Diciamo che cominciare dal commercio quello che appartiene soprattutto alle aziende agli investimenti investimenti che possono essere anche da ambo due le parti ci sono moltissimi ungheresi che vorrebbero investire qui in Italia che vorrebbero comprare qualcosa fare delle attività qui in Italia ma altrettanto vorremmo anche noi che ci siano ancora la continuità degli italiani che vengono in Ungheria per scambiarci ancora le opportunità che in questo momento permettono e sono talmente grandi anche perché una grossa mobilità di soldi da poter spendere per fare degli investimenti molto molto importanti nel settore agroalimentare. Durante l'incontro sono stati esplorati progetti di collaborazione in settori chiave come la produzione di carne la coltivazione di olivi e la produzione di olio d'oliva oltre ad altre eccellenze del territorio. Questi incontri di oggi con la Camera di Commercio in Ungheria è importante per il sistema cooperativo che già è abituato a lavorare con l'estero e quindi sono opportunità sicuramente di crescita per tutto il mondo del territoriale il sistema cooperativo specificamente nel settore dell'agroindustria. L'attività di export e di rapporti con l'estero sono fondamentali per poter pensare di programmare uno sviluppo significativo e importante perché il nostro mercato interno evidentemente è un mercato abbastanza ristretto quindi stimoliamo questo tipo di incontri e vogliamo in qualche modo ampliare il parquet di riferimento intorno al quale le nostre riprende possono andare a intrattenere rapporti commerciali.